Salve a tutti e bentrovati a questo nuovo tutorial. Oggi vogliamo parlarvi di un taglio, di una pettinata storica che ciclicamente viene riproposta ed è il Pompadour. Che cos'è il Pompadour? Il Pompadour è una pettinata, un taglio che evidenzia in maniera a volte anche sproporzionata il ciuffo dei nostri capelli. Questo taglio nasce come un taglio classico perché appartiene a tempi passati. Ma le mode lo hanno sempre riproposto perché è un qualcosa che veramente piace molto. Queste mode lo ripropongono in mille versioni, quindi più modagliole, più classiche, più stilizzate. Ma ritorna sempre la lunghezza di questo ciuffo. Come possiamo avere la possibilità di avere un bel Pompadour oppure comunque un taglio con un bel ciuffo? Beh, sicuramente quando andremo dal nostro barbiere gli diremo che abbiamo voglia di apportare un bel ciuffo evidente. E sicuramente dobbiamo decidere se sarà un taglio classico o meno classico. A quel punto il barbiere vi consiglierà sapientemente. Detto questo, portare un Pompadour ha bisogno di un po' di manualità e dei prodotti giusti. Perché diciamo questo? Perché ovviamente un ciuffo lungo inizia ad avere un suo peso. In più i nostri capelli non potrebbero, forse non sono proprio portati per essere diciamo sostenuti da soli in altezza. Quindi hanno bisogno di sostegno. Quindi in primis quando vogliamo pettinarci il nostro ciuffo e tenerlo più alto possibile, più voluminoso possibile, è buono usare dei grooming. Che cosa sono? I grooming sono dei prodotti che vanno messi principalmente mentre abbiamo i capelli bagnati, dopo che ci siamo fatti lo shampoo, e poi andiamo a fonarli. Questi prodotti, mentre noi li foniamo, evapora l'acqua all'interno, l'alcol in base a come sono fatti. E rimane solo lo styling sull'ostello del capello, che gli dà uno spessore maggiore e immobilizza, diciamo, fissa la piega del ciuffo e quindi aiuta la struttura a rimanere più alta. A quel punto andremo a mettere un finish, quindi una cera, una lacca, uno spray, un qualcosa. Sceglieremo il prodotto finish in base allo stile che vogliamo, perché forse abbiamo deciso di avere un ciuffo moderno, quindi un ciuffo con un taglio un po' spettinato, ma con un ciuffo che si evidenzi, probabilmente andremo con un effetto opaco, un effetto matte. Oppure siamo amanti del classico, dell'old school, e vogliamo un pompadour proprio veramente originale come l'epoca, e quindi scegliamo un prodotto a base di acqua, un prodotto estremamente lucido. Questi sono i modi con cui pettinare il pompadour, e come diciamo nel tempo, il pompadour ha sempre fatto parte dell'acconciatura maschile. Spero di essere stato esaustivo e soprattutto di avere soddisfatto la vostra curiosità riguardo il pompadour, e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie a tutti.